ciao ragazze buongiorno è iniziato questo 2022 ed è iniziato un pochino diciamo così un po a rallenti per me subito dopo capodanno e la prima vacanzina subito un'influenzona spero non anche per voi comunque visto che abbiamo deciso di iniziare con degli ottimi propositi il primo fra tutti amare se stessi quindi oggi vorrei condividere un po con voi alcune idee legate a questo concetto di amare se stessi ma soprattutto alcuni piccoli shopping che ho fatto proprio per la cura del se e state con me allora ragazzi innanzitutto non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le notifiche dei prossimi video questo è un video un po particolare perché oltre a condividere con voi ovviamente la mia passione per le cose belle e minimali quindi minimal chic infatti vedremo alcuni prodotti beauty che diciamo così mi sono regalata per poterli condividere con voi ma anche perché fra poco sarà il mio compleanno quindi volevo veramente rimettermi in forma la volontà è questa iniziare con i buoni propositi primo fra tutti e amarsi amare se stessi e come io vorrei farlo in un modo molto più profondo quest'anno cioè non semplicemente curando la mia immagine ma curando soprattutto il mio aspetto interiore per cui oltre a vedere alcuni piccoli diciamo acquisti beauty che ho fatto davvero validi vorrei intanto iniziare con voi a capire che cosa significa per me amare se stessi primo di tutti significa accettare chi siamo accettare noi stessi io ho avuto un periodo molto lungo nel quale sono rimasta sola completamente solo con la mia bambina per quasi un anno durante quest'anno ho avuto l'occasione per conoscermi un poco più a fondo per capire chi sono è fondamentale a mio avviso accettare quelle che sono le nostre sfaccettature e prenderle non come difetti ma semplicemente cercare di evidenziarle metterle diciamo girarli in positivo e quindi fare in modo che siano le nostre caratteristiche speciali sì perché la cosa meravigliosa è che non dobbiamo fare questa diciamo questo sforzo di sembrare qualcun altro di essere simile a qualcun altro in questo gruppo di persone mi piace diciamo a queste caratteristiche quest'altra persona si comporta così e cercare di mimare quello che le altre persone fanno la cosa meravigliosa che abbiamo è che siamo tutti differenti e tutti speciali e per quanto una persona cerchi di imitare un'altra non esisterà mai uno uguale per cui invece di imitare qualcun altro cerchiamo di essere originali di essere noi stessi di amarci per quello che siamo con le caratteristiche che ci congenono diciamo così questo lo dico anche per me perché insomma sto diventando grande fra poco ci sarà il mio compleanno esattamente domani per cui è una delle dei motivi per cui diciamo così ho deciso di regalarmi dei piccoli dei piccoli oggetti che mi aiutino un pochino nella mia bellezza come soprattutto tutto curando la sostanza più che la forma quindi più prima di parlare di trucco andremo a parlare di crema andremo a parlare di salute della pelle andremo a parlare di salute dei capelli però tornando a noi prima di vedere tutti questi prodotti meravigliosi tornando a noi come facciamo ad amare noi stessi innanzitutto dobbiamo imparare a ringraziare a ringraziare per quello che abbiamo nella vita ci sarà sempre qualcuno che ha più di noi io ricordo di essere stata ad una cena nella quale due amici si parlavano fra di loro e uno diceva allora hai scelto quale colore lamborghini arancio o verde e l'altro diceva ma sai nel dubbio le ho prese entrambe ci sarà sempre qualcuno che ha la volontà diciamo di spendere o la capacità di spendere di più di noi ci sarà sempre qualcuno che avrà un elicottero incastonato di diamanti che si sentirà inferiore rispetto a chi ha il jumbo incastonato di diamanti quindi noi dobbiamo imparare a ringraziare ed apprezzare per quello che abbiamo perché è veramente molto perché siamo tutti molto molto ricchi primo fra tutti il ricco è la persona che si rende conto che in realtà la vita reale è fatta di piccole cose è proprio questo è il fondamento del minimal chic che voglio condividere con voi la vita reale fatta di piccole cose è fatta di una tazza di tè è fatta di un sandwich è fatta di un momento condiviso è fatta di uno sguardo è fatta di un abbraccio di un fiore che sboccia di un raggio di sole inaspettato è fatta di queste piccole cose gli oggetti di per sé certo possono anche in quel momento e non il momento dell'acquisto dare una certa non lo so una certa uforia possono comunque essere gratificanti ecco ma non saranno mai parte della nostra vita reale la vita reale è fatta poi di queste piccole cose per cui il grande e il bello della nostra vita ed il fondamento del minimal chic è quello di renderci conto di quanto sono importanti queste piccole cose e viverle al meglio ecco questo è quello che vorrei condividere con voi questo è il messaggio che vorrei trasmettervi il fatto che ognuno di noi è veramente ricco nella propria vita e deve semplicemente rendersene conto nel momento in cui se ne renderà conto sarà anche in grado di ringraziare per quello che ha e quindi si sentirà pieno pieno di sé pieno della propria vita e questo è veramente un modo per amare se stessi per amare quello che abbiamo per amare tutto quello che è attorno a noi un'altra cosa importante per rimanere veramente in tema sull'amare se stessi e lavorare sulla propria positività è inutile che ce la raccontiamo ci sono sempre le giornate no le giornate quelle dove ci manca un po di energia dove siamo un po scarichi dove avremo veramente bisogno di una sferzata di entusiasmo e invece ci ritroviamo un po così con la copertina sul divano a mungolare un po su noi stessi e sul fatto che magari oggi non ci piacciamo così tanto o non riusciamo ad arrivare a fare quello che fa un'altra persona o ad ottenere quello che ottiene un'altra persona ecco dobbiamo invece lavorare molto sulla positività sulla positività del nostro pensiero per fare questo men sana in corpo sano è veramente una di quelle cose da tenere ben presenti significa lavorare veramente su noi stessi a livello fisico perché mantenere un buon ritmo di allenamento anche se fosse semplicemente una camminata una passeggiata o comunque un momento di meditazione che dedichiamo a noi stessi dedicare comunque a noi stessi del tempo per noi stessi consapevolmente significa lavorare su noi stessi sul nostro fisico sulla nostra mente per cui mantenere la mente sana ci aiuta moltissimo per lavorare sulla nostra positività e questo la positività ci aiuta poi a far accadere le cose sì perché se noi riusciamo a mantenere un mindset positivo riusciamo ad essere propositivi quindi a focalizzarci su quello che amiamo sulle piccole cose meravigliose della vita su quello che io per l'appunto definisco minimal chic sulla parte bella di noi stessi focalizziamoci su questo spingiamo su questo spingiamola al massimo questa positività ci aiuterà a far accadere le cose non dobbiamo essere diciamo così poco realistici dicendo voglio un castello domani però possiamo dire voglio arrivare ad avere un castello nella mia vita e come fare per ottenerlo bene mettiamo in campo tutte quelle che sono le nostre energie i nostri entusiasmi le nostre consapevolezze quello che sappiamo fare e vedrete e io ve lo assicuro questo che se riuscirete a concorrere anima cuore mente corpo nella realizzare quello che vorrete qualunque sia il vostro obiettivo lo otterrete vi sarà successo qualche volta di dire io vorrei tantissimo arrivare la e poi vi siete messi con entusiasmo con consapevolezza con sicurezza dicendo sì io ci arriverò io vi racconto una cosa che è successo a me allora aveva una galleria d'arte ok quindi noi volevamo partecipare assolutamente ad una fiera che si teneva in una città lontana da noi questo significava pagare il trasporto di tutte le opere d'arte avere gli artisti con noi avere lo stand all'interno della fiera avere moltissime cose l'allestimento le luci la presenza sui cataloghi la comunicazione nei media insomma c'era moltissima attività da fare attorno a questa cosa non abbiamo mai avuto il dubbio che saremmo riusciti a realizzare questo obiettivo siamo partiti senza sapere come realizzare questo obiettivo però con la consapevolezza che anima il cuore avremo lavorato per realizzarlo e ce l'abbiamo fatta ed è stata una di quelle cose che mi ha veramente stupito perché non avendo i fondi per farlo in quel momento non avendo i fondi per questo obiettivo abbiamo detto semplicemente dobbiamo riuscirci dobbiamo lavorare anima il cuore per riuscire a ottenere questa cosa e magicamente il mondo ci ha aiutati tanto che è nata una sponsorizzazione è nata una collaborazione con alcuni artisti alcuni artisti hanno capito condividendo con loro l'entusiasmo ma la volontà hanno capito i nostri obiettivi e quindi tutti quanti e tutte le forze unite hanno concorso a far sì che poi noi siamo riusciti ad ottenere questo obiettivo per cui voglio dire ed era un obiettivo veramente particolare e anche veramente complicato da raggiungere per cui veramente cercare di lavorare sulla positività cercare di lavorare su quello che ci piace di più di noi stessi e vedrete che riusciremo ad aggiungere qualunque tipo di obiettivo fra l'altro com'è successo a me io sono stata dicevo quasi un anno un anno poco più da sola da sola con la mia bambina senza avere una compagna senza avere qualcuno vicino questo mi ha aiutato molto mi ha aiutato molto a conoscermi a conoscere la mia parte positiva e anche quella negativa ovviamente quando una persona si trova da sola mette in evidenza certo tutto quello che le piace perché può per un primo momento decidere che cosa mangiare come vestirsi che cosa fare però nel stesso tempo poi si vedono anche tutte le tutti gli aspetti negativi ok il fatto di essere soli il fatto magari di non essere così indipendenti nel fare certe cose insomma ci sono è un evidenziatore di quella che la nostra vita reale bene a messo è servito moltissimo è servito perché finalmente mi sono chiesta ma in tutta la musica che esiste che io ascolto qual è la musica che si adatta veramente a me che piace a me che non ascolto perché sono con queste persone voglio piacere a questo che non ascolto perché sono in questa circostanza per cui è quello che devo fare qual è veramente la musica che piace solo a me qual è il cibo che piace a me che cosa mi piace fare cercate quello che vi piace fare e fatelo fatelo perché non abbiamo così tanto tempo e quindi per rendere speciale a ogni momento della nostra vita per sottolineare questi micro attimi che compongono la nostra vita fate quello che vi piace questo farà veramente crescere l'amore che avete per voi stessi se fosse anche scrivere una poesia o scalare l'everest cercate di dedicarvi del tempo di fare quello che vi piace e passare il tempo con le persone con le quali sapete di avere una sorta di feeling innato diciamo così tante volte diciamo ok voglio fare quello che mi piace poi invece veniamo un po forbiati perché le persone che frequentiamo sono le persone che vogliamo avere attorno a noi ma spesso con le quali non c'è diciamo una finità tantissime volte fin da piccoli abbiamo voluto far parte di quel gruppo di persone che sono le persone popolari diciamo così le persone in le persone chic poi in realtà le amicizie quelle vere si fanno nel modo più naturale e anche più originale si trovano degli amici che sono spesso diversi da noi magari a me piace un determinato tipo di vita mi piace un determinato tipo di attività e la mia più cara amica potrebbe invece essere diversa da a me per molte scelte però è sempre comunque quella persona che con la quale tu hai un'affinità diciamo intellettuale hai un'affinità proprio di lunghezza d'onda di energia per cui cerchiamo di accerchiarci attorniarci di persone con le quali abbiamo questo senso di affinità anche se fossero solo due o tre nella cerchia dei nostri amici le persone con le quali ci sentiamo a casa queste sono le persone che ci aiutano poi a riscoprire la nostra positività ad amare noi stessi perché perché con queste persone non c'è competizione c'è solo armonia e l'armonia e l'accettazione fa sì che noi invece di diciamo cercare di mimare qualcun altro fioriamo sbocciamo e fioriamo allora partendo del presupposto che abbiamo detto di amare noi stessi ora vediamo come iniziare effettivamente ad amare noi stessi oggi non parleremo di alimentazione però devo dire che io ho sperimentato alcune cose che iniziano proprio dal nostro fisico prima fra tutti una cosa che voglio condividere con voi è diciamo la salute dell'ambiente all'interno del quale viviamo è ovvio che in questo momento soprattutto un momento un po particolare nel quale cerchiamo di essere molto diciamo disinfettati diciamo così cerchiamo comunque la disinfezione cerchiamo la pulizia ancora più cerchiamo di essere molto minimali ecco dobbiamo occuparci anche dell'aria che respiriamo per amare noi stessi non solo di quello che ingeriamo non solo quello che beviamo ma anche l'aria che respiriamo ecco che così io ho scoperto un device un piccolo device che però ha veramente cambiato le mie abitudini ve lo faccio vedere così poi magari vi inserisco anche un'immagine in sovraimpressione io ho scoperto questo meraviglioso vaporizzatore il vaporizzatore d'aria è un elemento fondamentale per la salute della nostra aria e quindi per amare noi stessi perché perché ci aiuta non solo profumare gli ambienti una volta che sono puliti e profumati sicuramente è più piacevole soggiornarvi ma anche ci aiuta veramente a disinfettarli è questo che allora è un piccolo strumento che sembra veramente minimale ma nello stesso tempo fa un grandissimo lavoro adesso lo accendiamo assieme così dovete partire e immediatamente lui inizia a vaporizzare nell'aria questo vapore questo è uno di quegli elementi che ci possono davvero cambiare la vita come funziona semplicemente si inserisce all'interno di questo vaporizzatore un po d'acqua c'è un misurino che lo accompagna per cui poi ci aiuta a non superare il livello d'acqua e qui ci sono i posizionamenti per scegliere anche quanto può durare l'utilizzo del vaporizzatore dicevo che per me è fondamentale utilizzarlo con alcune gocce aromatizzate basta aggiungere due o tre gocce di titri all'interno dell'acqua che andiamo a mettere all'interno del vaporizzatore e questo ci aiuta immediatamente a disinfettare l'aria dell'ambiente in cui viviamo per cui veramente è utilissimo in questo modo altrimenti ora vi faccio vedere anche le varie profumazioni che possono aiutarci in vari momenti della nostra vita qui ho acquistato anche questo cofanetto è un cofanetto di oli essenziali diciamo così ne contiene parecchi ed ha veramente differenti fragranze io sono venuta alla scoperta degli oli essenziali in un momento abbastanza particolare intanto come vedete qui dice 14 bottigliette per 14 fragranze diverse solo aprendo il cofanetto sentite un profumo meraviglioso e questi possono essere tutti oli essenziali da utilizzare ovviamente con questo splendido diffusore che cosa succede inserendo questi oli essenziali diciamo all'interno del diffusore non solo possiamo disinfettare l'ambiente ma ci possono aiutare veramente per moltissime altre per moltissimi altri motivi per esempio io ho conosciuto gli oli essenziali per digerire il bergamotto per esempio è uno di quegli elementi che ci aiuta veramente a digerire per cui accendere il nostro vaporizzatore ed inserire alcune gocce di bergamotto all'interno del suo del suo contenitore ci aiutano veramente dopo pranzo ad aumentare quello che è la diciamo la facilità digestiva altre gocce invece ci possono aiutare per esempio a rilassarci come le gocce di lavanda ci possono aiutare durante la giornata per moltissimi altri aspetti della nostra vita oltre all'ambiente nel quale viviamo è fondamentale prenderci cura di noi stessi allora è vero solitamente diciamo così io dico è meglio rimanere minimale anche per gli elementi che si utilizzano per la bellezza devo dire che però ultimamente ho voluto scoprire per voi alcuni elementi particolari che ci aiutano a migliorare la bellezza della nostra pelle perché perché ho sentito di averne la necessità ho sentito di voler cercare qualche cosa in più dell'olio di mandorle dolci o dell'idratante semplice che utilizzo quotidianamente qualche cosa di più specifico quindi che cosa ho fatto innanzitutto ho incontrato un dermatologo che mi ha dato delle indicazioni precise io ho sempre utilizzato dei saponi molto forti per lavare il mio viso molto basic diciamo così e ho anche usato degli idratanti molto basic è arrivato il momento di utilizzare qualche cosa invece che si occupi più specificatamente del mio tipo di pelle in realtà tutti dovrebbero farlo dovremmo farlo abbastanza presto nella nostra vita io inizio adesso però sono contenta di aver incontrato questi macchi perché mi aiutano veramente a scegliere degli elementi naturali che si occupano della nostra pelle con il rispetto proprio per l'ambiente uno fra tutti è elemis vi ho raccontato che vi avrei parlato di elemis e io di elemis ho sperimentato questi due prodotti allora sono due prodotti che vanno diciamo abbastanza in combinata primo fra tutti è un cleanser per cui un burro che ci aiuta a pulire il nostro viso adesso ve lo faccio vedere perché è veramente incredibile l'ho comunque già utilizzato qualche volta per farvelo per darvi un giudizio reale di quello che è il prodotto eccolo qui è un vero e proprio burro e questo si chiama superfood a h glow cleansing butter che cosa significa che questo burro va ad aumentare a nutrire la nostra pelle anche durante la pulizia io ve lo consiglio perché veramente ha cambiato la struttura della mia penne ci devo lavorare ancora vero però auto momento nel quale aveva perso veramente entusiasmo aveva perso un po di lucidità e soprattutto un po di luminosità e invece grazie ad elemis e grazie a questo diciamo nuovo metodo di pulizia ho riacquistato molta della lucidità e anche molta della consistenza della mia pelle fra l'altro è bellissimo perché si usa questo burro che è profumatissimo si sente proprio che è idratante già nel momento in cui lo usiamo per struccarci poi con una spugnetta leggermente inumidita un dischetto di quelli non usa e getta un dischetto di quelli di cui vi parlo sempre io dischetti di tessuto di bambù oppure di cotone un asciugamano di quelli per struccare va lentamente rimosso dal viso e vedrete che il viso rimane già idratato così poi però per aumentare luminosità del nostro viso del mio viso soprattutto c'era bisogno di un siero un siero particolare anche questo e qui ho trovato in elemis anche qui una delle proposte che mi è piaciuta di più la sto utilizzando da qualche giorno e devo dire che è anche questo veramente efficace si chiama pumpkin glow concentrate è un concentrato di zucca diciamo così ed è questo piccolissimo questa piccolissima fialetta che prova utilizzata in poche gocce allora possono essere messe sulla mano tre o quattro gocce mattino sempre prima cercherando un po il prodotto perché come vedete si divide oppure direttamente sul viso io lo metto direttamente sul viso perché così non rischi di sprecare il prodotto e ne ha subito un'efficacia vedrete che viene assorbito immediatamente dalla vostra pelle questo significa che ce n'era veramente la necessità altri prodotti che sto sperimentando in questo momento sono questa crema di chanel meravigliosa devo dire per le labbra questo è l'elift sonnico e con tours allora scusate mio francese ci sono ancora lavorando però in linea di massima questa è la crema migliore che io possa mai aver utilizzato per il contorno delle mie labbra e per le mie labbra in sé è un trattamento notturno ve lo consiglio anche questo perché a me è bastato applicarla due volte infatti come vedete il cofanetto è ancora nuovo praticamente mi è bastato applicarla due volte perché già io potessi sentirle molto più idratate e molto più polpose diciamo così quindi questo è tra l'altro alla camelia come sempre basato sugli estratti del fiore della camelia è uno dei ritrovati di chanel che devo dire per quanto noi donne possiamo dire certo utilizziamo i prodotti che vanno alla radice per cui anche io sono per utilizzare la vitamina c pure la vitamina a pure utilizzare l'olio di mandorle puro devo dire che ancora quando comunque un brand come Chanel si occupa di realizzare un prodotto soprattutto un prodotto di bellezza il trust la fiducia che c'è in me verso questo marchio e la bellezza al quale è comunque sempre diciamo così sottoposto questo marchio la bellezza che porta in sé il nome di questo marchio mi aiuta moltissimo a sentirmi già più bella sentirmi già meglio quindi ad amarmi di più sentirmi più amata altra cosa che sto sperimentando grazie appunto all'acquisto di questo siero è invece un altro adesso questo è difficilissimo perché per l'appunto io ne ho alcuni campioni vediamo se riesco a farvi vedere eccolo qui sempre di chanel comunque è un piccolo siero niente la telecamera non lo vuole inquadrare in questo momento è troppo lucido comunque è un piccolo siero sempre numero uno di Chanel è un siero rivitalizzante alla cameglia rossa ed è apposta per tutto il viso questo devo dire che anche questo l'ho applicato due volte ma ve lo lascerò giù in descrizione insieme a tutti i prodotti di cui vi sto parlando perché anche questo veramente mi ha dato nuovo entusiasmo nuova energia tanto che mi sentivo così spenta questi giorni soprattutto i primi giorni di freddo poi dopo le feste comunque il bioritmo diciamo così si tranquillizza un po' per cui c'è la necessità di continuare a nutrire noi stesse il nostro ego e anche la nostra diciamo immagine la nostra pelle per cui questo veramente mi ha dato una sferzata di energia cos'altro? Stavo parlando prima di T3 il T3 non è solo un T3 per quanto riguarda la pulizia generale dell'ambiente il T3 è una fantastica crema che io ho scoperto grazie ad un'amica non la conoscevo e questo fa parte invece degli elementi essenziali basic che ognuno di noi dovrebbe avere in casa perché? Perché il T3 ci aiuta a curare la nostra pelle in tutti i sensi se avesse una piccola acne, se avesse dei pori dilatati, se aveste bisogno di disinfettare la vostra pelle anche per esempio per una puntura di zanzaro o di insetto, per qualunque tipo di attività legata alla vostra pelle anche per arrossamenti, anche arrossamenti di bambini io ve lo consiglio caldamente, mi sta aiutando moltissimo io avevo un problema sulla fronte legato per l'appunto troppo sole per cui ad alcune macchioline sulla pelle anche per questo veramente io vi consiglio questo T3 questa è la pomata, le altre sono le gocce quindi le gocce pure sono da diciamo vaporizzare da utilizzare sulla pelle solo con grandissima attenzione mentre questo T3 è in base di 1 a 4 diciamo così per quanto riguarda la dividizione dell'estratto di T3 all'interno della crema ed è veramente efficace tornando a noi invece parlando un pochino di beauty un'altra delle cose che mi sono voluta regalare in questo momento come vedrete per la prima volta della mia vita sto indossando un leggerissimo rossetto ebbene sì, primo fra tutti diciamo che ovviamente lo conoscete già dalla confezione però adesso la vediamo perché l'ho anche questo appena aperto questo è il Maximizer di Dior eccolo qui ed è uno di quei piccoli regali per cui anche se questo è semplicemente un lucida labbra che però ha all'interno un piccolo strato di peperoncino per cui dà un po' di colore alle nostre labbra e comunque le rivitalizza le rimpolpa fa in modo che diciamo la circolazione aumenti per cui sono molto più vive, molto più carnose e molto più belle devo dire che anche questo fa quello che dice cioè sin dalla prima applicazione io ho sentito subito il beneficio si sente un pizzicore per cui non mettetelo alle bimbe perché mia figlia ha voluto subito provare e poi comunque ha sentito che pizzicava e dicono subito mamma mamma punge però nonostante questo diciamo così è veramente un prodotto valido perché non solo lucida le nostre labbra ma le rimpolpa veramente un'altra cosa che invece ho scoperto grazie alla volontà di acquistare questo fantastico prodotto di Dior sono andata in profumeria e ho scoperto invece questa linea che si chiama Pillow Talk anche questa vediamo se riusciamo ad inquadrarla forse è più semplice tenendola un po' lontano ecco qui comunque io ho acquistato una matita per labbra allora vi dicevo un'altra cosa che mi sono regalata è questa fantastica matita di una marca che non conoscevo è una marca prettamente inglese si chiama Pillow Talk la linea ed è di Charlotte Tiberi eccola qui questa è una matita devo dire che io ho preferito rispetto al confronto con grandi marchi perché? perché ha una tenuta veramente forte ed è molto molto cremosa quindi è molto piacevole applicarla sulle labbra e sembra che tenga veramente fra l'altro adesso io vedo le mie labbra riflesse nella telecamera e comunque sembra che io abbia un rossetto effettivamente rosso in realtà si tratta solo di questa matita con un po' di lucido applicato all'interno perché veramente poi concorre a dare un po' di energia un po' di una sperzata diciamo così di energia a quello che potrebbe essere un trucco molto semplice come quello che di solito faccio io ultima cosa che vi ho già svelato ma che voglio condividere con voi è il mio prodotto è il mio profumo diciamo così questo è di Guerlain questa è veramente una coccola è una coccola per se stessi perché? perché prendersi cura di noi stessi qualunque sia il metodo che voi crediate fondamentale per prendersi cura di voi stessi è efficace per voi quindi funziona e va bene va bene perché va bene per voi stessi per me era fondamentale avere un po' di profumo anche questa è una cosa nuova per me perché non ho mai amato molti profumi non li utilizzo molto invece questa fragranza Mont Guerlain sparkling bouquet di Guerlain per l'appunto mi ha davvero fatto innamorare per cui l'ho scelta e ve la consiglio è un bouquet davvero fresco e fiorito che mi aiuterà e mi accompagnerà in tutte le giornate fino all'inizio della primavera altro grande prodotto che sto sperimentando ma questa volta non per la cura della pelle o diciamo del nostro trucco ma per i capelli è questa maschera di Kerastase eccola qui vediamo se sulla confezione dalla quale l'ho appena tolta si legge meglio la sua composizione è una maschera comunque terapistica terapist quindi è una maschera di terapia per i capelli veramente fortemente danneggiati qui nella scheda descrittiva si dice livello di danneggiamento 1, 2 oppure 3, 4 questa è proprio per i 3, 4 per cui specifica per chi ha capelli trattati io devo dire che ho leggermente schiarito i miei capelli da poco e quindi hanno sempre comunque bisogno di una grande ristrutturazione di una grande cura subito dopo aver fatto questa diciamo queste piccole mesh questa piccola schiaritura che di solito faccio una volta all'anno nel momento più buio dell'anno quindi di solito proprio verso gennaio o novembre o gennaio dipende da quanto si sono schiariti i capelli d'estate per cui dopo aver fatto questa attività diciamo così è fondamentale utilizzare una crema una maschera che possa ristrutturare e riportare i miei capelli alla loro bellezza e al loro splendore diciamo così ma soprattutto mi aiutino perché io ho i capelli sottili questo è adatto comunque anche per capelli spessi mi aiutino veramente a rinforzarli per cui non si spezzino e quindi è giusto fare un trattamento diciamo d'urto per potersi prendere cura di noi anche dei nostri capelli dobbiamo sempre tenere in conto per l'appunto che tutto quello che fa bene a noi che è bene per noi che riteniamo ci faccia piacere che ci faccia fiorire è ciò che è veramente importante per la nostra vita si tratti di una piccola o di una grande cosa per cui lavorate veramente su voi stessi e ascoltate moltissimo che cosa è per voi ciò che vi fa stare bene ciò che è amore per voi stessi io farò lo stesso e per oggi vi ringrazio spero che vi sia piaciuta questa condivisione di varie sperimentazioni io vi lascio tutti i link e tutte le descrizioni dei prodotti menzionati giù nell'info box e vi mando un grande abbraccio alla prossima video